siamo sull'ultimo tratto della salita della selvotta tendenze sono queste firmo solamente perché sennò qualcuno potrebbe pure pensare che dopo aver fatto il filmato precedente poi non l'ho fatta la salita ecco la tampa finale grazie a tutti grazie a tutti anche il vento in faccia vabbè pure oggi è fatta grazie a tutti